Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come scaricare così il controllo integrità PC se non disponi di questo programma sul tuo sistema operativo è possibile installarlo direttamente sulla pagina che ti ho lasciato in descrizione quindi entra direttamente su questa pagina, scendi fino a giù fino a trovare così il controllo integrità PC quindi ed eccolo qua, se il controllo integrità PC non è installato è possibile installarlo accedendo al sito h.ms eccetera eccetera quindi ci clicchiamo sopra ed ecco il download, una volta fatto questo è il driver da installare, quindi ci clicchiamo sopra e lo installiamo a me è già installato, quindi facciamo ignora ok ed ecco il nostro programma, ovviamente il controllo integrità PC ci fa anche capire per esempio se tu stai sul tuo sistema operativo Windows 10 vuoi passare a Windows 11, prima di passare usa il controllo integrità PC, quindi fai su controlla ora ed ecco qua tutti i risultati come puoi vedere questo PC soddisfa i requisiti di Windows 11, quindi questo PC supporta l'avvio protetto che sarebbe il security boot che se non lo tieni attivo c'è il link in descrizione oppure nelle schede, un video su come attivare il security boot sul BIOS come attivare anche il TPM 2.0, ho attivato qualsiasi cosa per passare così a Windows 11 il processore è sopportato per Windows 11, almeno 4 GB di RAM, io ne ho 32 e il disco di sistema è 64, io ho 240 ovviamente ho 3 dischi e l'ho messo su questo qua da 240 ti fa anche capire gli ultimi aggiornamenti che hai fatto su Windows Update, capacità della memoria, tempo di avvio puoi nominare il computer e basta, questo è il controllo integrità PC se ti interessa ci sono anche altre informazioni su Windows 11 e suggerimenti sull'integrità del computer quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video grazie a tutti per questa visione, il link sta sempre in descrizione su come scaricare e installare il controllo integrità PC se non lo tieni sul sistema, quindi grazie a tutti per la visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!